e allora e 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 partiamo e io stavo andando bene se lo posso fare oggi se lo posso fare oggi se lo posso fare oggi e e e e e e da e da e 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 hai, insomma, la conseguenza l'emergenza coronavirus e i nonni questi più... in ogni situazione e quindi e e e e e e e grazie debola da questo da quest'edizione di tg mille cuori è tutto grazie gianluca se avete commenti e curiosità scrivetecelo nei commenti